Ciao a tutti! In questo video tutorial voglio mostrarvi come si realizza l'anello magico o magic ring. In effetti qualcosa di magico questo anello ce l'ha e lo vedremo dopo. Allora prendo il filo lo avvolgo intorno all'indice e al medio poi con l'anulare e il pollice tengo fisso il filo con l'uncinetto da sotto entro e estrago il filo lo porto su in cima all'indice lo tengo fisso estrago le dita dall'anello e per fissare l'anello come prima cosa faccio una catenella e abbiamo realizzato questo cerchio allora in base al progetto che si fa all'interno dell'anello magico o si fanno maglie basse maglie alte mezze maglie io ve lo farò vedere con le maglie basse allora entro e faccio le mie maglie basse ne faccio 6 1 2 3 4 5 e 6 adesso tirando su questo filo l'anello si stringe del tutto poi di solito si va a chiudersi nella prima maglia bassa che abbiamo realizzato all'interno dell'anello con un punto bassissimo ed ecco che abbiamo formato questo cerchietto che può essere alla base per un amigurumi per un cestino per tanti altri progetti adesso io voglio farvi vedere un altro modo per fare l'anello magico bensì l'anello magico doppio io lo uso prevalentemente perché è più sicuro che poi i capi non si aprono faccio la stessa procedura però giro il filo due volte intorno all'indice e al medio con l'anulare e il pollice tengo sempre il filo da sotto scusate da sotto entro in tutti i due i fili e prendo il terzo filo che da sotto porto fuori fino in cima all'indice sfilo sempre le dita e tenendo fisso qua su il filo e faccio sempre la catenella per fissare l'anello magico questo è l'anello magico doppio dove ci sono due filati adesso come prima realizzo 6 maglie 1 2 3 4 5 e 6 adesso tiro il filo ed estrago l'uncinetto adesso con l'uncinetto entro all'interno del cerchio perché se non faccio questo lavoro i due fili non si chiudono in contemporanea può capitare che se ne chiude solo uno per cui tengo l'uncinetto all'interno dell'anello e tiro il filo così si chiudono tutti e due i fili estrago l'uncinetto torno nella mia maglia e vado nella prima maglia bassa che ho realizzato nell'anello magico opera e faccio un punto bassissimo poi si può tirare ancora il filo finché si chiude del tutto il buchetto io preferisco questa versione perché è molto più sicura è molto più stabile e non c'è pericolo che si apra più essendo doppio l'anello magico spero di esservi stata utile con questo video a presto